Hola a tutti ragazzi, io sono il vostro Luke e oggi siamo qui in questo nuovissimo video ritornati sulle OP Lucky Pryson, su The Legendcraft oggi ragazzi cosa andremo a fare di bello o di brutto? prima cosa andremo a far salutare Youtube ragazzi probabilmente nessuno saluterà perchè vedo che in chat c'è stato un mini event organizzato da Stopepo, GB25 che non conosco, infatti pochi saluteranno comunque ciao Gennarino che è l'unico che ha salutato perchè ragazzi vi ripeto c'è sta roba in chat quindi va bene, però qualcuno saluta quindi fa niente comunque ragazzi detto questo voglio salutare un ragazzo e aggiungerlo alla bacheca dei regali perchè come vedete qui, oh quanti libri che ci sono, devo leggerli tutti allora qui c'è la NetherSar, qui un cartello appunto che userò intanto c'è Gennarino che mi vuole dare, l'ha appunto le cose ok sarà che è arrivato lui, va bene, Gennarino butta lì tutto quello che è voi ragazzi devo ringraziare però prima di iniziare ciao Master05, ciao Luigi00 soprattutto DavidShish2 perchè mi ha dato NetherSar e ragazzi ha fatto tipo un coprestito del piccone boia praticamente quando a lui non serve me lo dà a me però ragazzi ho voluto rifiutare perchè comunque è una cosa abbastanza strana da fare cioè ragazzi devi capire che fare gli screenshot così a che è cool è un po' difficile perchè devi capire lui dove guarda poi lui è pure tutto nero non capisco, signorino Stroket ma lei dove guardi ha fatto lo screen signorino io ci avrei da fare allora ragazzi quindi saluto DavidShish2 per l'ennesima volta andiamo a vedere questi libri cosa contengono ecco qua, andiamo a vedere il primo di Erky giusto? andiamo a vedere ciao Luke sono Erky93ita spero che questi due banners ti piacciono ed forza per i mille iscritti non me lo ricordo ma non è che ce l'ho letto sti cosi dedica di Loricocraft eh volevi? eh vabbè ragazzi è stato nei libri troll che vogliamo fare ok questo è di nonnino mio ciao Luke ho visto i tuoi video e scusa se ti spammo ma ho visto la tua chat perciò ti spammo solo che alcune volte mi eccito e spammo troppe volte si lo so l'ho scritto alla parola spammo troppe volte vorrei chiederti un favore gira la pagina per favore mi daresti un piccone del tuo VIP mentre nei tre mojano il mio plot quello... ma ragazzi sti messaggi sapete che io già me li ricordo? banner dalla Mojang regalo da... ragazzi sapete che io non lo so cosa si riferiscono vediamo questo qua di Sebi Luke sono Sebi ti ricordo le cose che trovi ma ragazzi che caccio ce ne ha messo sti libri qua? questi sono già letti signorina sì signorina ma che cosa ci fanno i libri letti qua dentro? comunque ragazzi se volete scrivere altri libri per magari dirmi ah Luke fai scrivere qua ah Luke sei proprio che è forte ah Luke perché non te ne vai via? o roba più bella magari ragazzi siete libri ti scrivo libro lo firmate col vostro nick do caccio non mi sa i libri qua vabbè li butto qua dentro mettete appunto la vostra firma e leggerò i vostri messaggi che poi ragazzi ha detto ah però c'è anche questa cesta qui ah 32 lime cosa che non so chi me l'abbia mai messa quindi ragazzi posiamo questo qui è tutto a posto allora andiamo ad attaccare nella bacheca dei regali appunto il signorino David Shish 2 quindi andiamo qua saltiamo perché anche Gennarino ha detto mi ha messo il regalo però io non ho trovato nada nella cesta ragazzi io non so perché forse è un bug qualcosa poi si vedrà nei prossimi video qui ragazzi vedete questi standardi neri ma non perché loro sono tirchi e hanno messo uno standardo nero semplicemente perché rirrompendolo non mi ricordo più quale è il disegno e quindi non posso farlo allora andiamo ad aggiungere al 151esimo posto del regalo il signor David Shish che cacchio di nome 2 spero che sia così Nick perché ragazzi me lo sono salvato regalo numero 151 minchia come l'ho scritto 151 ok però vabbè Luke però come stai ok fatto mettiamo nether star nether star e ragazzi non metto anzi più che nether star diciamo token non metto il piccone boia perché ragazzi alla fine era un prestito con diritto di riscatto diciamo così ho messo il libro nel tuo celeste spero che lo leggi genarino io non ho visto un get eccolo genarino vediamo cosa ci scrive Luke sei un grande ti stimo e ti voglio bene anche se non ci conosciamo io mi chiamo genarino 2004 e niente spero che i 33 milioni che ti ho dato ti siano piaciuti so che sono pochi no grazie mille genarino come si suol dire l'importante è il pensiero anche se mi davi un milione io lo apprezzavo comunque infatti ragazzi giusto perché apprezzo il suo regalo lo aggiungerò qui alla bacheca quindi genarino 2004 che poi c'è un nome troppo bello genarino simpatico da dire e aggiungiamo il regalo 152 ok mettiamo big money perché ragazzi 33 milioni in base alla vita reale di certo non sono pochi in base alla vita reale oh oddio mio guarda la scelta che si deve fare un bel comando oh quanti sono 500 milioni giusto mamma mia grazie mille master allora raga qui c'è un'altra persona da aggiungere il bacheca ragazzi vi voglio davvero tanto bene perché soprattutto devo dirvi la verità sto racimolando money per rancare ulteriormente e mi state dando una grande mano senza chiedervi nulla non è che ho detto bustatemi cioè wow grazie mille grazie mille allora andiamo qui e noi facciamo voilà master scrivi chat ok master 0 ok non sapevo scrivere 05 yt dovrebbe essere così se non sbaglio spero di non sbagliare andiamo sotto regalo numero 153 raga siamo arrivati a quota ma dopo perché scrivo sempre così siamo arrivati a quota 153 raga qui però si deve mettere big big money perché qui davvero raga volano i big money proprio tanti 500 milioni è tantissimo e grazie a lui sono arrivati a un milione a un miliardo scusate 8 un miliardo farmato da solo 800 milioni quasi tutti da voi un po' uno un po' l'altro un po' Michele un po' David e sono arrivati a questa quota quindi raga davvero grazie allora queste nether star le andiamo a posare insieme alle altre intanto eccole qui questo regalino da kill gamer ok questo è un altro regalo da derdo il libro lo posiamo tu cacchio l'ho messo i libri sotto vero ricordandoci in qualche modo che è di genarino ma dubito che mi ricordo quindi ragazzi vi ridico una cosa importante vi invito a mettere un libro all'interno della cesta in caso volete darmi qualche messaggio oppure se mi volete contattare per altre cose potete contattarmi su Instagram su Facebook e anche il mio profilo privato di Facebook no nome e cognome ragazzi ho creato un profilo di Facebook proprio per cioè come se fosse una persona normale in modo che mi potete contattare con i messaggi invece della pagina quindi vi invito a vedere tutti i link in descrizione perché ho modificato anche un po' tutto allora detto questo signorina io direi di andare a posare i cartelli perché i cartelli ci stanchi li posiamo ok quello di questa cartella sono io solo che ho cambiato nick quale? dove sta Master? vediamo un po' vediamo un po' a molle pa' ah questo qui ah Master 05 però giustamente senza YT GG grazie comunque Master davvero un bellissimo regalo 500 milioni nel mio ranking nel mio tentativo di rancare è molto utile molto molto utile ragazzi però prima di concludere il video magari voglio dirvi alcune cose importanti come detto prima la pagina Facebook è importante perché in caso non usciranno video in determinati giorni ve lo dirò lì poi vorrei avere vorrei vedere più che avere più like sotto questo video perché ragazzi in questa serie che stiamo portando avanti ha minchiatura per non essere volgare perché nonostante a volte cado dei visual eccetera lo sta portando avanti quindi vorrei vedere ulteriore supporto da parte vostra e inoltre ragazzi trovate la playlist se andate sul mio canale di tutti i video quindi chi vuole andarsi a rivedere tutta e dico tutta la serie Bryson dal primo a ultimo episodio come è iniziata e come sta continuando l'avventura vi invito ad andare sul mio canale zona playlist trovate OP Lucky Bryson a breve creerò anche uno di Sky Grid e per le altre serie perché ragazzi in questo momento sto cercando di organizzare al meglio il mio canale se sentite rumori molesti non sono io ma la mia sedia quindi non pensate oh che scorreggire video dislike no raga non ho scorreggiato comunque ragazzi come vedete qui lavori al lotto sono andate avanti al plot più che lotto e qui siamo per fare la zona sotterranea dove metteremo non si sa ancora che cosa perché dico metteremo perché mi farò aiutare da Michele e forse David Ninja diciamo le persone del TS e quindi sto ancora pensando a cosa mettere sotto qui comunque ragazzi spero che il video di oggi vi sia piaciuto spero che non sia durato troppo poco fatemi sapere se li vedete più lunghi comunque detto questo lasciate like se il video vi è piaciuto commentate il video condividetelo ma soprattutto iscrivetevi al canale ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti